Ci saranno riuniti tanti artisti fra cui pittori che esporranno le loro opere e tanti poeti che potranno dire la loro poesia inerenti al tema e poi ci saranno anche degli interventi musicali, uno spettacolo di teatro danza stiamo cercando di fare un po' un'atmosfera molto intensa e ricca e parleremo soprattutto di questa ragazza ricordando che la vita è un'emozione che va vissuta nel migliore dei modi perché oggi ci siamo, domani è sempre una speranza